Per tutti i malati e i soffredenti, perché provino nella Vergine Maria, Santa Maria, Madre di Dio, bella per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. O Maria, gloriosa Regina del mondo, tu che hai generato Cristo Gesù, Signore e Salvatore nostro, accetta questo filiale omaggio e intercei per la nostra pace e per la nostra salvezza. Grazie a tutti. 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 Diocesi al mondo intero, ci ottenga per tutti, per tutte le nostre famiglie, una serena festa dell'assoluto, di giorni di pane e di consolazione, Ave Maria piena di grazia, il Signore è contento, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Domani celebremo una solenne celebrazione caristica qui a San Germano nella mattinata alle ore 11. E domani pomeriggio ancora porteremo sulle strade della nostra città la bellissima icona dell'immagine della Vergine assunta in cielo. Spero che la stessa partecipazione devota, composta, compossa, che vedo ogni anno all'infermazione possa essere altrettanto fervorosa domani alla messa e poi ancora alla processione. L'appuntamento che vi do è per domani e in queste ore. Non smettete mai nel vostro cuore di innalzare al cielo un'unica solenne preghiera. Ave Maria piena di grazia, il Signore è contento, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per i tuoi uomini, adesso è di loro tra i nostri uomini. E viva Maria! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.